Nuove risvolti sul giallo di Diana, la bimba di quasi un anno e mezzo, lasciata morire distenti dalla madre Alessia Pifferi, che l'aveva abbandonata in casa a Milano da sola per sei giorni per andare dal compagno Aleffe. Gli inquirenti che indagano sul caso hanno depositato le ciate estrapolate dal cellulare della madre 37enne, arrestata lo scorso 21 luglio con l'accusa di un micidio volontario aggravato. Sul loro contenuto c'è il più stretto riservo, ma confermerebbero il quadro emerso finora, in base al quale la piccola Diana sarebbe stata un peso per la madre. Secondo il GIP, Fabrizio Felice, la madre soffrerebbe di un'evidente instabilità effettiva recentemente manifestata in una forma di dipendenza psicologica dall'attuale compagno, che l'ha indotta ad antepore la possibilità di mantenere una relazione con lui, anche a costo di infliggere enormi sofferenze alla bambina. In vista della costituzione di parte civile contro Alessia Pifferi, anche la nonna e la zia di Diana hanno nominato un loro legale. Nelle scorse settimane è stata reggettata dal GIP la richiesta di accesso in carcere del professor Pietro Pietrini, ordinario di biochimica clinica e biologia molecolare clinica dell'Università di Pavia, uno dei due docenti incaricati dalla difesa di stilare una consulenza neuroscientifica e psichiatrica su Alessia Pifferi. Il GIP, allo stato attuale delle indagini, non ha trovato infatti motivi validi per consentire i colloqui, al di là di quelli con i legali, con persone esterne, volti a valutare lo stato di salute mentale della donna.